È uscita con il volto scuro dal dolore la mamma di Jennifer Sterlecchini, Fabiola Bacci, dall'Aula D della Corte d'Appello dell'Aquila, tutto il dolore di aver perso senza poter fare nulla la figlia 26enne per mano dell'ex compagno Davide Troilo che l'ha uccisa pugnalandola il 2 dicembre del 2017. Oggi alla Corte d'Appello dell'Aquila all'udienza per chiedere la riduzione di pena per Troilo, condannato a 30 anni di carcere in primo grado con lo sconto di pena nel gennaio del 2018. Gli ergastolani siamo noi, sei un orco, vogliamo giustizia, così hanno gridato rivolti verso l'Aula di Tribunale gli amici di Jennifer. Lui seduto nell'Aula da un lato al suo fianco illegale Giancarlo De Marco, dall'altro la mamma di Jennifer Fabiola Bacci e il fratello Jonathan Sterlecchini, stretti nel loro silenzioso dolore a fianco all'Avvocata Rossella Gaspari. Fuori dall'Aula l'Associazione Insieme per Jennifer chiede di eliminare lo sconto di pena per chi compie un omicidio, sconto previsto in caso di rito abbreviato con la condanna di 30 anni in primo grado che verrebbe dimezzata. Fa parte dell'Associazione anche Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, la ragazza di 33 anni uccisa nel 2017 alla stazione di Pescara. Lui chiede lo sconto di pena, noi diciamo no allo sconto di pena hanno un rito abbreviato, qua vogliamo leggi esemplari, le leggi ci sono e devono essere messe in atto. Io sono la sorella di Anna Carlini, la ragazza stuprata e uccisa sotto al tunnel della stazione a Pescara. Lottiamo per la giustizia, adesso ci sarà la sentenza di primo grado, stiamo lottando perché non vogliamo più sconti di pena. Accanto agli amici di Jennifer anche i rappresentanti dell'Associazione Avri, vittime riunite d'Italia che unisce per la stessa battaglia contro un sistema giudiziario che non dà giustizia alle vittime di omicidio, tante storie e tanti drammi. Molti di questi sono femminicidi. C'è una proposta di legge che da dieci anni rimbalza tra Camera e Senato senza riuscire a essere calendarizzata. Se questa legge passava già l'anno scorso alla fine della legislatura, quando abbiamo iniziato questo iter processuale per la morte di Jennifer Sterlecchini, quel giorno non sarebbero stati 30 anni ma sarebbe stato ergastolo. Penso che sia quasi paradossale, però questo è il sistema giuridico italiano, essere qui oggi ancora in appello quando siamo certi e sicuri che una persona ha ammazzato un'altra persona e sta cercando ovviamente di scappare non si sa da cosa.